Capitolo 2 Capitolo 3 Capitolo 3 Capitolo 3 Capitolo 3 Capitolo 3 Capitolo 3 Capitolo 4 Capitolo 4 Capitolo 4 Capitolo 4 Capitolo 4 Capitolo 4 libertò. Aveva appena abbandonato il tepore del letto e ancora insonnolito si lasciava cullare dal trotto tranquillo del cavallo. Quando il ronzino si fermava di propria iniziativa davanti a quelle buche circondate di rovi che i contadini scavano ai bordi dei solchi, Charles si svegliava di soprassalto, ricordava subito la gamba rotta e cercava di farsi venire in mente tutto quel che sapeva sulle fratture. Non pioveva più, cominciava ad albeggiare e sui rami spogli dei meli si posavano immobili alcuni uccelli con le più meritte contro il vento freddo del mattino. La campagna piatta si stendeva a perdita d'occhio e i boschetti intorno alle fattorie macchiavano di violetto scuro, a larghi intervalli, la sterminata superficie grigia che si perdeva all'orizzonte nel colore tetro del cielo. Ogni tanto Charles apriva gli occhi, poi la sua mente stanca lasciava che il sonno prendesse il sopravvento e ben presto egli scivolava in una specie di sonnolenza in cui le sensazioni attuali si confondevano con i ricordi. Gli sembrava di avere una doppia personalità, di essere al contempo studente e marito, coricato come poco prima nel proprio letto, o intento ad attraversare come una volta una corsia d'ospedale. Nella sua immaginazione l'odore caldo dei cataplasmi si fondeva con quello aspro della rugiada. Sentiva il rotolio degli anelli di ferro dei letti sull'asta e sua moglie che dormiva. Mentre attraversava a Vassonville vide sul bordo di un fosso un ragazzo seduto sull'erba. «E' lei il dottore?» domandò il fanciullo. Alla risposta di Charles raccattò gli zoccoli e si mise a correre davanti a lui. Strada facendo dai discorsi della sua guida, l'ufficiale sanitario capì che il signor Rouault doveva essere uno dei più ricchi agricoltori. Si era rotto la gamba la sera prima mentre tornava da una festa data in occasione dell'epifania da un vicino. Gli era morta la moglie da due anni. Aveva con sé solo la signorina che lo aiutava a far andare avanti la casa. I solchi delle carreggiate si fecero più profondi vicino alla cascina dei Bertò. Il fanciullo si infilò allora in un buco della siepe, scomparve e riapparve poi in fondo a un cortile per aprire il cancello. Il cavallo scivolava sull'erba bagnata. Charles era costretto ad abbassarsi per passare sotto i rami. I cani da guardia abbaiavano dai canili tirando sulle catene. Quando entrò ai Bertò il cavallo si adombrò e fece uno scarto brusco. Era una bella fattoria. Dalle porte aperte in alto delle scuderie si potevano scorgere grossi cavalli da tiro che mangiavano tranquilli in rastrelliere nuove. Lungo i fabbricati fumava una grande concimaia e in mezzo ai polli e ai tacchini troneggiavano cinque o sei pavoni, un lusso per i pollai di Coe. L'ovile era vasto, il granaio imponente, con i muri lisci come una mano. Sotto le tettoie si trovavano due grandi carri, quattro aratri con le fruste e i finimenti e l'equipaggiamento completo e con i ciuffi di lana turchina insudiciati dalla polvere sottile che cadeva dai granai. Il cortile dagli alberi piantati a distanze regolari saliva in pendio e vicino allo stagno schiamazzava facendo un gaio baccano un branco d'oche. Una giovane donna con un abito di lana blu guarnito da tre volanti si fece sulla soglia di casa per ricevere il signor Bovary. Lo fece entrare in cucina dove un grande fuoco fiammeggiava. La colazione della servitù bolliva intorno al fuoco in pignattini di diversa misura. Dentro il camino erano stati messi ad asciugare degli indumenti umidi. La paletta, le molle, la canna del soffietto, tutte di enormi proporzioni, splendevano come acciaio levigato. Lungo le pareti una ricca batteria da cucina abbaluginava alla luce viva del fuoco e ai primi raggi del sole che entravano dai vetri. Charles salì al primo piano per visitare il malato. Era a letto sotto le coperte, sudato e aveva scaraventato lontano il berretto da notte. Era un ometto tarchiato di 50 anni con la pelle bianca e gli occhi azzurri, calvo sopra la fronte e con gli orecchini. Aveva accanto a sé su una seggiola una grande bottiglia di acquavite dalla quale attingeva di tanto in tanto per farsi coraggio. Ma appena vide il medico la sua eccitazione cadde e invece di bestemmiare come aveva continuato a fare per 12 ore si mise a gemere debolmente. La frattura era semplice e senza alcuna complicazione. Charles non avrebbe potuto augurarsi un caso più facile. Allora ricordando l'atteggiamento dei suoi maestri accanto al letto dei feriti cercò di confortare il paziente con ogni sorta di buone parole, carezze chirurgiche che sono come l'olio per ingrassare il bisturi. Per procurarsi delle stecche andarono a prendere un fascio di assicelle nella rimessa. Charles ne scelse una, la spaccò per il lungo e ne tolse le asperità con un pezzo di vetro mentre la domestica stracciava lenzuola per ricavarne bende e la signorina Emma si dava da fare per confezionare cuscinetti. Le occorse parecchio tempo per trovare l'astuccio da lavoro e suo padre finì con lo spazientirsi. Ella non rispose ma cucendo si pungeva le dita e le portava alla bocca per succhiarsele. Charles rimase colpito dal candore delle sue unghie. Erano lucide, appuntite, più levigate degli avori di dieppe e fatte a mandorla. La mano tuttavia non era altrettanto bella, non abbastanza bianca forse, e aveva le falangi un po' nodose. Era inoltre troppo lunga e priva di morbidezza nella linea del contorno. Emma aveva bellissimi gli occhi, benché fossero bruni sembravano neri per via delle ciglia e guardavano tutto francamente con un candido ardire. Terminata la medicazione il medico fu invitato dallo stesso signor Rouault a mangiare un boccone prima di andarsene. Charles discese nella sala a pian terreno. Due coperti con bicchieri d'argento erano preparati su una piccola tavola posta ai piedi di un vasto letto a baldacchino rivestito di tela stampata con figure di turchi. Un odore di iris e di panni umidi filtrava dal grande armadio in legno di quercia situato di fronte la finestra. In terra, negli angoli, stavano allineati ritti alcuni sacchi di grano. Costituivano quanto era avanzato dopo aver riempito il granaio vicino, al quale si accedeva per mezzo di tre gradini di pietra. Attaccato a un chiodo in mezzo a una parete verde la cui vernice si staccava sotto l'azione del salnitro per decorare la stanza, vera, in una cornice dorata, il disegno a matita nera di una testa di Minerva, sotto il quale si leggeva in caratteri gotici al mio caro papà. Parlarono dapprima del malato, poi del tempo, del freddo terribile, dei lupi che infestavano i campi di notte. La signorina Ruo non si divertiva troppo in campagna, soprattutto adesso che quasi tutta la responsabilità del buon andamento della fattoria ricadeva su di lei. Poiché la stanza non era riscaldata, ella tremava di freddo, pur continuando a mangiare, scoprendo così un poco le labbra carnose, che aveva l'abitudine di mordicchiare quando non parlava. Portava un colletto bianco, piatto. I capelli erano divisi a metà da una scriminatura sottile che seguiva la curva del capo e scendevano in due bande, neri e compatti, così da sembrare un tutto unico, tanto erano lisci. Lasciavano a malapena scorgere il lobo dell'orecchio prima di fondersi dietro in una crocchia voluminosa e formavano sulle tempie delle onde che il medico di campagna vide là per la prima volta in vita sua. Emma Rouault aveva le guance rosate e portava, come un uomo, infilato fra due bottoni del corsetto, un occhialino di tartaruga. Quando Charles, dopo essere salito a salutare papà Rouault, rientrò nella stanza prima di andarsene, la trovò in piedi, con la fronte appoggiata ai vetri, che guardava nell'orto dove il vento aveva fatto cadere i sostegni dei fagioli. Si voltò. Cerca qualcosa? Il frustino, se non le dispiace, egli rispose, mettendosi a frugare sul letto, dietro le porte, sotto le sedie. Il frustino era caduto per terra, fra i sacchi e il muro. La signorina Emma lo vide e si chinò sui sacchi di grano. Charles, per cavalleria, si precipitò e, mentre allungava il braccio nell'identico movimento di lei, si accorse che sfiorava con il petto il dorso della giovane donna. Ella si rialzò tutta rossa, guardando di sopra la spalla mentre gli porgeva il nerbo di bue. Invece di tornare a Iberto tre giorni dopo, come aveva promesso, il medico vi fece ritorno l'indomani, poi regolarmente due volte la settimana, senza contare le visite impreviste che faceva di tanto in tanto, quasi inavvertitamente. Del resto tutto andò bene. La guarigione si verificò secondo le regole e quando, in capo a 46 giorni, si vide Papà Rouault, che si provava a fare i primi passi da solo nella malandata casa, tutti cominciarono a considerare il signor Bovary un uomo di grandi capacità. Papà Rouault stesso affermava che non sarebbe stato curato meglio dai primi medici di Ivetot o addirittura di Rouen. Quanto a Charles, non cercava di domandarsi quale fosse il motivo per cui veniva a Iberto tanto volentieri. Se ci avesse pensato, avrebbe senza dubbio attribuito il suo zelo alla gravità del caso, o forse al guadagno che sperava di trarne. Ma era proprio per questo che le visite alla fattoria costituivano per lui un così delizioso diversivo nelle meschine occupazioni della sua esistenza? In quei giorni si alzava presto, partiva al galoppo, incitava al cavallo, poi scendeva per pulirsi i piedi nell'erba e infilava i guanti neri prima di entrare. Gli piaceva giungere in quel cortile, sentire contro la spalla il cancello che cedeva, udire il gallo che cantava sul muro, vedere i contadini che gli andavano incontro. Gli piacevano il granaio e le scuderie. Si era affezionato a Papà Rouault che, battendogli sulla mano, lo chiamava il suo salvatore. Gli piaceva il suono degli zoccoletti della signorina Emma sulle piastrelle pulite della cucina. I tacchi alti aumentavano un poco la sua statura e quando gli camminava dinanzi, le suole di legno, sollevandosi rapidamente, producevano un suono schioccante contro la pelle dei talloni. Ella lo riaccompagnava sempre fino al primo gradino della scala esterna. Quando non gli avevano ancora portato il cavallo, si tratteneva là. Si erano già salutati e ambedue tacevano. Un turbine d'aria l'avvolgeva, sollevandole i capelli corti e i ribelli della nuca, facendole sventolare i nastri del grembiule sulle anche e attorcigliandoli come banderuole. Un giorno, all'epoca del disgelo, l'acqua scorreva sulla corteccia degli alberi nel cortile e la neve si scioglieva sui tetti. Emma stava sulla soglia, andò a cercare un ombrello e lo aprì. L'ombrello di seta color gola di piccione attraversato dai raggi del sole le illuminava di riflessi cangianti la pelle bianca del viso. Là, sotto quel dolce tepore, ella sorrideva e si sentivano le gocce d'acqua cadere a una a una sul tessuto teso. Da principio, quando Charles aveva cominciato a frequentare i Bertot, la giovane signora Bovary non tralasciava di chiedere notizie del malato e aveva perfino riservato per il signor Rouault, nel registro che teneva in partita doppia, una bella pagina bianca. Ma quando seppe che egli aveva una figlia, si affrettò a informarsi meglio. Le dissero che la signorina Rouault, allevata in collegio dalle orsoline, aveva ricevuto come suol dirsi un'ottima educazione e che di conseguenza conosceva la danza, la geografia, il disegno, sapeva ricamare e suonare il pianoforte. Fu il colmo. Per questo dunque, ragionava fra sé, ha il viso così raggiante quando va a trovarla. Per questo si mette il panciotto nuovo, a rischio di rovinarlo con la pioggia. Ah, quella donna, quella donna! E distinto la detestò. Dapprima si sfogò con le allusioni, ma Charles non le capiva. In seguito si servì di osservazioni casuali, che egli lasciava cadere per paura della bufera. E infine di invettive a bruciapelo, alle quali suo marito non sapeva che cosa rispondere. Come mai torna a Ibertot, dato che il signor Ruo era guarito e che quella gente non aveva ancora pagato l'onorario. Ah, forse perché laggiù vi era una certa persona, qualcuno che sapeva conversare, un'abile ricamatrice, una donna spiritosa. Ecco cosa gli piaceva. Per lui ci volevano signorine di città. E continuava. La figlia di papà Ruo, una signorina di città, figuriamoci. Il nonno faceva il pastore e hanno un cugino che per poco non è finito alle assise per una brutta ferita in una rissa. Non è proprio il caso di darsi tante arie e di andare in chiesa la domenica vestita di seta come una contessa. D'altra parte, quel povero diavolo, senza il raccolto del ravizzone, l'anno scorso, non avrebbe saputo come fare per pagare i debiti. Tediato, Charles smise di andare a Iberto. Eloise gli aveva fatto giurare sul libro da messa che non ci sarebbe più tornato, dopo una scenata piena di singhiozzi e di baci, in un prorompere di passione. Obedì, ma l'ardire dei desideri contrastava con il servilismo del suo comportamento e per una specie di ingenua ipocrisia egli ritenne che il divieto di vederla gli desse il diritto di amarla. E poi la vedova era magra, aveva i denti lunghi. Portava in tutte le stagioni uno scialletto nero che le arrivava alle scapole. La sua figura ossuta era fasciata da abiti aderenti e troppo corti che le lasciavano scoperte le caviglie là ove sulle calze grigie si incrociavano i nastri delle larghe scarpe. La madre di Charles veniva ogni tanto a trovarli, ma in capo a qualche giorno la nuora era riuscita a renderla tagliente e pungente come lei stessa. E allora si mettevano all'opera simili a due coltelli, scarnificandolo con le loro riflessioni e osservazioni. Faceva male a mangiare tanto. Perché offrire sempre da bere al primo venuto? Che testardaggine, non volersi mettere la maglia di lana! All'inizio della primavera accadde che un notaio di Inguville, al quale erano affidati i fondi della vedova Dubuc, prendesse il volo portando con sé tutti i denari del suo studio. Eloise, in vero, possedeva ancora, oltre a essere comproprietaria di un battello per una quota valutata non meno di 6.000 franchi, la casa di Via Saint-François. Eppure, di tanta e tanto sbandierata ricchezza, non era comparso in casa che qualche mobile e un po' di biancheria. Bisognava mettere le cose in chiaro. La casa di Dieppe risultò coperta di ipoteche fino alle fondamenta. A quanto ammontasse il denaro depositato dal notaio, Dio solo lo sapeva, e in realtà la quota del battello non superava i mille scudi. La brava donna aveva dunque mentito. Esasperato, il signor Bovary, padre, sfasciò una sedia sul pavimento e accusò la moglie di avere causato l'infelicità del figlio, legandolo a una simile rozza, i cui finimenti valevano ancor meno della pelle. Si recarono a toast. Alle spiegazioni seguirono le scenate. Eloise, in lacrime, si gettò nelle braccia del marito, scongiurandolo di proteggerla dai suoceri. Charles volle difenderla. I genitori indignati se ne andarono. Ma il colpo era giunto al segno. Otto giorni dopo, mentre stendeva in cortile la biancheria, Eloise ebbe uno sbocco di sangue e l'indomani, mentre Charles le voltava le spalle per chiudere le tende della finestra, disse «Ah, mio Dio!». Esalò un sospiro e cadde in deliquio. Era morta. Vera di che restarne sbalorditi. Dopo i funerali, Charles tornò a casa. Al pianterreno non c'era nessuno. Salì al primo piano, in camera da letto. Vide un abito di lei ancora appeso ai piedi dell'alcova. Allora, appoggiandosi allo scrittoio, rimase fino a sera perduto in un doloroso fantasticare. Dopotutto, Eloise l'aveva amato. Grazie a tutti.